Imprevisti che possono succedere durante i viaggi, imprevisti che possono succedere navigando in internet e imbattendoci in influencer, i famosi influencer scoperti dal sottoscritto. Ne abbiamo un paio anche quest'oggi, anzi tre. Andremo con la prima, una donnina, come direbbe Cristiano, che ha i suoi follower, fa vedere i suoi vestiti che prende, diciamo, da amiche, ok? E le lancia come stiliste, cioè tutta una roba casalinga, diciamo, no? Però lei ci tiene a farle vedere e a promuoverle con i suoi video. Sentite però come li promuove, vai. Ragazzi, eccomi qua al sole, un bacio a Katia, che mi ha vestita pure oggi. Qua oggi questo è il mio aufti. Aufti! Il suo aufti! Avete capito? I famosi aufti che uno si mette. Serto, certo. Fifi, molto bene, molto bene. Invece c'è un'altra simpatica, mamma mia, un'altra simpatica donnina. Non ce l'è Covid comunque, ecco. No, esatto, deve essere parente. Una donnina che invece racconta le diete salutari. Caro Paolo Dini, dovresti prendere spunto da questa influencer, perché è molto brava lei a spiegare quali dieti, è piena di fibre, ricca di fibre, perché poi il corpo sta meglio. Senti come sta meglio. La mia dieta salutare mi fa fare la cacca bella, non ho aree della pancia. Oh, ho capito? Ah, che bello. Quindi si gira, fa la foto e... Guarda che bella. Perché è bella, certo. Fa delle mostre anche. Arriveremo anche lì, Paolo, mi sa qualcosa e mi dice che... Sì, manca pochissimo. Soprattutto dopo una colazione abbondante, ma salutare del buon nuovo in influencer Antonio Razzi. La colazione dei senatori, vai. Buongiorno, cari amici. Sì, vi faccio vedere questa mattina la mia colazione, ma che è tutte le mattine così. Hai capito? Due mandalene che ha fatto mia moglie, che naturalmente ci metterò la marmellata di Giuliano Teatino. Che bravo. È una crostina con delle patate al forno e peperone arrostito. Di colazione. Guardate, voglio provarlo. Voglio provarlo. E cosa beve? Nel cappuccino, giusto? Naturalmente, questo piatto ci vuole il Montepulciano da Bruno. Ma come? La colazione. Alle sette di mattina ci sta. Adesso si spiega tutto. Tra l'altro siamo in periodo di grandi premi per gli attori. Davide Donatello. In Italia c'è il premio al peggior film che si chiama Cinematone. Negli Stati Uniti il premio al peggior film si chiama Razzi. Ho scoperto. Sì, Razzi Award. È un motivo ci sarà, voglio dire. La banda di R101 La banda di, la banda di, la banda di R101